Without him Sono le 5 e 30 del mattino, Londra, 12 agosto 2012. Spengo la sveglia, anche se quella notte in realtà non ho dormito parecchio perché fra un'ora c'è un pullman che mi porterà a giocare la partita più importante della mia carriera la partita che vale una medaglia olimpica Ora serve una premessa come avete intuito quando sono entrato sul palco io non sono stato un grande atleta che è diventato un allenatore di pallavolo che è un po' lo stereotipo classico del mondo dello sport mi piacerebbe raccontarvi come fa qualche mio collega che ero molto bravo, avevo molto talento poi mi sono fatto male e ho dovuto incominciare ad allenare no, ero sano come un pesce semplicemente non avevo talento a sufficienza per diventare un atleta cosa che mi sarebbe piaciuta moltissimo Matteo vi ha raccontato anche del mio giro che è stato un giro un po' lungo ho incominciato davvero ad allenare in questa città che è la mia città in un oratorio di questa città di un borgo, si chiama Borgo San Paolo ho incominciato da lì un percorso che è passato attraverso cinque campionati diversi dieci città diverse tre nazioni l'Italia, la Grecia e la Finlandia che sono parti del mondo che mi hanno fatto diventare quello che sono diventato pensavo un po' a queste cose quella mattina alle cinque e mezza sapendo che quel pullman sarebbe partito un'ora dopo per portarmi all'Else Court il posto, il luogo dove la nostra squadra avrebbe giocato quella partita l'Else Court è una di quelle architetture resistenti cioè quelle architetture che sono state capaci di cambiare nel corso della storia la loro destinazione d'uso pensate che alla fine dell'Ottocento lì c'era la sede europea del Buffalo Bills Wild West Show pensate quanti sogni sono transitati di lì poi all'interno di quella struttura pensata soprattutto per i grandi eventi musicali nel 1973 David Bowie fece un concerto che seglò il record storico di persone che erano andate ad assistere a un concerto rock indoor nel 1992 un nuovo edificio tanto per essere coerente con questo luogo di produzione di sogni venne inaugurato da una principessa Lady Diana e poi in occasione del trentesimo edizione dei giochi olimpici Londra 2012 quel posto era stato scelto per essere il luogo dove si sarebbero disputate le partite di pallavolo insomma quello era in quel giorno il teatro dei miei sogni purtroppo era lontanissimo da dove stavamo noi era a più di un'ora di tragitto in condizioni normali però quel giorno tanto per complicare un po' le cose c'erano due fatti il primo quello era l'ultimo giorno dei giochi olimpici il giorno in cui si corre la maratona e la maratona quel giorno passava anzi arrivava nel centro di Londra che quindi era completamente paralizzato il secondo fatto era che la nostra partita aveva un orario di inizio un po' particolare le 8.30 del mattino ora la pallavolo è uno sport di forza esplosiva non è un capriccio non è questione di allenamento o di abitudine è molto difficile essere performanti a quell'ora del mattino è un fatto biologico in poche parole nessuno dei miei atleti aveva mai giocato una partita che incominciasse a quell'ora era tutto completamente nuovo era una situazione, una sensazione completamente sconosciuta era tutto meravigliosamente inallenabile nessuno dei nostri protocolli tutte quelle cose che nello sport si fanno con grande precisione con grande attenzione ai dettagli sembrava essere utile quel giorno nessuna o forse una sì perché su quel pullman che mi avrebbe portato al teatro dei miei sogni io incominciavo a realizzare che quello che mi stava capitando lì seduto col mio sacchettino con la colazione dentro un panino e un succo di frutta così come si fa nelle gite scolastiche quella sensazione era molto vicina era molto più vicina a quello che io avevo fatto 25 anni prima quando in questa città allenavo quei ragazzini dell'oratorio dovevo calcolare bene i tempi degli spostamenti trovare la pizzeria giusta per arrivare a mangiare insomma in modo che non fosse né troppo presto né troppo tardi rispetto alla partita paradossalmente era tutto straordinariamente diverso da quello che io avevo fatto negli ultimi anni della mia carriera in Serie A agli europei, ai mondiali, nelle World League e altrettanto paradossalmente quel giro lungo che io da quell'oratorio avevo incominciato mi stava riportando al suo inizio ora naturalmente grazie alla solerzia degli organizzatori locali arrivammo al campo di gioco con un anticipo pazzesco ora chiudete un attimo gli occhi immaginate di essere un atleta che deve andare in campo a giocare per una medaglia olimpica provate a pensarvi a guardare il soffitto dello spogliatoio dovendo aspettare più di un'ora l'inizio della gara riuscite a immaginare la tensione il nervosismo quell'energia nervosa che si brucia e che però sapete che presto vi servirà dannatamente la mia fortuna fu quella di percepire quelle sensazioni quello stato d'animo collettivo quindi chiamai la squadra intorno a me e feci un discorso di poche parole dissi voglio raccontarvi una storia voglio raccontarvi la storia di un saltatore in alto un atleta come voi che ha avuto lo stesso sogno vostro per tutta la sua vita fin da bambino vincere una medaglia olimpica immaginate che quell'atleta abbia insieme al suo staff di allenatori studiato in maniera meticolosa le condizioni in cui dovrà competere il 12 di agosto del 2012 a Londra quindi sa, ha studiato ed è consapevole che il 12 di agosto a Londra normalmente ci sono 24 gradi c'è il 70% di tasso di umidità c'è una leggera brezza di 4-5 nodi che soffia dal sud-est a favore di rincorsa e ha ricreato quelle condizioni e si è allenato in quelle condizioni ogni singolo giorno degli ultimi 4 anni è perfetto si sente pronto si sente imbattibile poi arriva il 12 agosto del 2012 e quando quell'atleta entra nella pista di atletica dello stadio olimpico succede che piove piove fa freddo la pedana è scivolosa c'è un vento forte quali sono le due scelte? la medaglia verrà comunque assegnata quel giorno la vincerà chi sarà più agile e questo concetto di agilità è un concetto ovviamente che ha a che fare con la fisicità che serve agli sportivi però è un concetto anche molto intellettuale è una sorta di leggerezza di capacità di muoversi in maniera efficace di interpretare qualche dettaglio e di rimettere insieme dei pezzi che in quel momento sembrano scomporsi davanti alle tue mani io dissi sono certo che voi siate consapevoli che tutto quello che avete fatto fino ad oggi è stato importante perché se voi non aveste avuto quell'attenzione ai dettagli quella cura del particolare quella ricerca del protocollo oggi voi non sareste seduti in questo spogliatoio ci sarebbe qualcun altro a posto vostro però oggi voi dovete sbarazzarvi di tutto quello che vi siete portati fino a qui dovete togliervi questo zaino che è troppo pesante e che oggi non servirà anzi sarà di ostacolo chiusi questo piccolo discorso dicendo una cosa molto semplice che però sentivo davvero in quel momento e dissi semplicemente io voglio che voi sappiate che sono dannatamente orgoglioso di essere qui con ciascuno di voi oggi sotto a questa pioggia cacciai letteralmente gli atleti dallo spogliatoio chiesi loro di andare a fare colazione fuori immaginatevi la scena con gli addetti alla sicurezza che rincorrevano gli atleti che andavano a cercare di prendere un caffè ci demmo appuntamento mezz'ora dopo nello stesso spogliatoio dove io non parlai quasi più feci solo un gesto appesi in quello spogliatoio una maglia azzurra la maglia era la maglia numero 16 era la maglia di Vigor Bovolenta un atleta che aveva vestito quella maglia 197 volte fino ai giochi olimpici di Pechino e che 5 mesi prima di quella partita era tragicamente scomparso per un problema cardiaco giocando a pallavolo appesi quella maglia insieme alle altre e disse semplicemente ricordai semplicemente dell'importanza di non lasciarsi cose non dette o non fatte e dicendo che in qualche modo in qualche forma quel giorno avremmo potuto contare su un giocatore in più non avrei certamente immaginato che 4 anni dopo sarei stato chiamato a raccontare di queste vicende a un TED però credo in quel momento di avere pensato esattamente this must be the place questo deve essere il posto deve essere il posto dove io dove noi realizzeremo i nostri sogni anche se è completamente diverso da quello che ci saremmo aspettati sta a noi renderlo tale oggi mi venne in mente il luogo da dove i nostri sogni erano incominciati il foro italico lo stadio dei Marmi Roma da lì la delegazione olimpica si muove simbolicamente per andare a ricevere la bandiera olimpica dal Presidente della Repubblica e pensai a quel luogo con un riferimento alla leggerezza proprio quella di Italo Calvino nelle elezioni americane perché anche il foro italico è un luogo che ha saputo trasformare clamorosamente la destinazione per la quale era stato pensato perché quel luogo era stato pensato per celebrare la pesantezza e l'orrore dell'apologia fascista era stato pensato per dividere il mondo ed era stato capace di trasformarsi ospitando nel 1960 l'edizione forse più bella dei giochi olimpici quella di Roma quella di Abebe Bichila della sua corsa leggera a piedi scalzi la maratona vinta sotto l'arco di Costantino i giochi di Cassius Clay i giochi di Nino Benvenuti i giochi di Wilma Rudolph i giochi di un ragazzo torinese che Wilma Rudolph guardava con tenerezza si chiamava Livio Berruti e vinse i 200 metri con un'immagine meravigliosamente romantica quella di un volo di colombe che accompagnavano la sua curva prima della dirittura d'arrivo e che sottolineavano quella leggerezza che aveva trasformato anche quel luogo nato per un obiettivo completamente diverso nato per dividere il mondo in un luogo dove il mondo quel giorno trovava la sua sintesi più bella non ricordo quasi nulla della partita che ci ha segnato la medaglia ricordo la tensione la difficoltà da superare il senso di far parte di qualcosa di grande ricordo che ci fu però con chiarezza in tutti noi una sensazione non pensamo mai neanche per un istante che non avremmo vinto quella partita ripensai tante volte a quello che era successo ricordo l'ultimo punto quello che segnò la fine di quel percorso e ricordo che dopo quell'ultimo punto sul podio olimpico ricomparve quella maglia che avevamo appeso negli spogliatori con un gesto di una bellezza straordinaria che fece il giro del mondo e che è ancora la mia medaglia perché non so se sapete con grande crudeltà ai giochi olimpici la medaglia agli allenatori non la danno la medaglia va solo agli atleti poco dopo poco dopo ripensai a Calvino guardando i miei atleti sul podio una sensazione che vi raccontano tanti atleti una specie di passaggio schizofrenico fra la gioia assoluta e la melanconia sono sorrisi che si spengono occhi che si abbassano e come diceva Calvino la melanconia che è tristezza che diventa leggera è come se lì sul podio tu scoprissi che il luogo e quel viaggio che ti ha portato fino a lì è finito e quell'isola di utopia che hai ricercato per tanti anni si dissolve sotto i tuoi piedi immediatamente appena tu ci hai messo il primo passo sopra ricordo anche la sera dopo quella medaglia passeggiavo all'interno del villaggio olimpico l'ultimo giorno dei giochi ripetendomi in maniera ossessiva che quel sogno che io avevo da bambino che era stato possibile raggiungere mi dimostrava che non esistono sogni impossibili e mi ripetevo questa cosa immaginando e sentendo che io avevo in quel momento un solo desiderio una buona idea essere a Rio quattro anni dopo in quel momento incominciai a tratteggiare un nuovo viaggio verso una nuova isla di utopia pensai qualcosa del genere Rio must be the place io però a Rio non ci sono arrivato non ci sono arrivato perché mi sono fermato un mese prima delle qualificazioni per quei giochi olimpici rassegnando le mie dimensioni il 29 luglio del 2015 in relazione a un fatto che non voglio raccontare perché non è importante è importante che quel fatto avesse molto a che fare con il rispetto delle persone e dei valori cosa che a mio giudizio non erano non sono e non saranno mai negoziabili non voglio giocare a fare l'eroe se voi mi richiedeste lo rifaresti io non vi saprei rispondere quella scelta mi ha procurato un dolore immenso gigantesco e guardare alla televisione otto atleti che con me sui 12 presenti a Rio giocavano una finale olimpica è una sensazione che difficilmente riuscirei a descrivere quindi non ci provo neanche voglio solo mettervi in guardia the place non esiste o almeno non esiste per quanto voi vi sforziate di definirne i dettagli non esiste come lo pensate voi l'isola che non c'è appunto non c'è the place è un viaggio e allora la cosa più bella è che ogni nostro viaggio possa essere il più lungo possibile pieno di ricchezze di persone da incontrare nel cammino sulla strada pieno di posti dove farsi contaminare proprio come succede nel viaggio più famoso della storia della letteratura quello di Ulisse c'è nel libro quinto dell'Odissea un momento in cui Ulisse è sull'isola della ninfa Calipso la donna più bella del mondo che gli ha promesso l'immortalità se lui resterà lì con lei ora ditemi voi la donna più bella del mondo e l'immortalità sono due poste in palio abbastanza significative eppure Calipso trova Ulisse seduto sulla spiaggia che guarda il mare con gli occhi rigati di lacrime per questo desiderio per questa nostalgia di ritornare alla sua isola il desiderio e la nostalgia sono un motore dalla forza inesauribile siate consapevoli che ci sarà sempre un luogo verso il quale desideriamo ritornare ma che ogni volta che ci arriveremo ce ne sarà un altro di cui sentiremo la mancanza c'è una poesia che racconta di quel viaggio straordinario che però è anche una meravigliosa estruggente metafora sul senso della vita la scritta Costantino Scalafis nel 1911 e si intitola Itaca quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga fertile in avventure in esperienze i destrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo gli inciclopi e le strigoni no certo né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro se l'anima non te li mette contro devi augurarti che la strada sia lunga che i mattini d'estate siano tanti quando nei porti finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta negli empori fenici indugia e acquista madreperle coralli ebano ambra e tutta merce fina anche profumi penetranti di ogni sorta più profumi inebrianti che puoi vai in molte città egizie impara una quantità di cose dai dotti sempre devi avere in mente Itaca raggiungerla sia il tuo pensiero costante tuttavia non affrettare il viaggio fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola tu ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca Itaca ti ha dato il bel viaggio senza di lei mai ti saresti messo sulla strada che cos'altro ti aspetti e se la trovi povera non per questo Itaca ti avrà deluso fatto ormai sabio con tutta la tua esperienza addosso già tu avrai capito che cosa un'Itaca vuole significare qualunque sia la vostra Itaca buon viaggio grazie